Elisa Berlino, Naiki Santiago con Pasolio, Vittoria Alvarez, Club Selezione Santiago con De Moro, la Tarso, la cancia a... Eselan Bambi... Grazie a tutti. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segura. Vai, 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 vai. Segura, 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 segura. Segura, segura. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. , vai, 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 vai. Non lo so questo. Che? Nooo. Nooo. Raio. Vai para iba. Vai para iba. Vai para iba. Vai para iba. Un, solo un. È due minuti. Oh! Non! Oh! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Che? Che?" Hahti. Che? Che? UG A parte che? Il passo un l importante. Oh! Treati! Quanto per cap